Zucca e ricotta, due ingredienti che in questa stagione si consumano davvero con gran piacere. Ci aiutano a realizzare diversi tipi di piatti, dagli antipasti ai dolci e ogni ricetta diventa davvero speciale per il gusto delicato di questi ingredienti. Questa volta li ho utilizzati per preparare una torta salata molto cremosa e gustosa. Gli ingredienti che ci servono sono 800 g di zucca già pulita quindi privata di semi e filamenti e buccia, 400 g di ricotta che può essere di pecora o vaccina, 2 uova, 50 g di formaggio grattugiato, un po' di pangrattato, erbe aromatiche a piacere, io ho scelto la salvia. Mi occupo subito della zucca, è conveniente scegliere una tipologia poco acquosa, la taglio a fette, la privo di buccia, semi, la taglio ovviamente a pezzetti e decido di cuocerla in forno, meglio se statico a 200 gradi per circa mezz'ora o comunque fino a quando diventa morbida. La polpa della zucca va poi fatta asciugare e intiepidire, la possiamo quindi spostare in una ciotola dove la lavoriamo con una forchetta per ridurla in purea. Alla crema di zucca aggiungiamo la ricotta, questa precedentemente va ben sgocciolata. Mettiamo anche le uova, il formaggio grattugiato, non dimentichiamo di aggiustare di sale e pepe quanto basta e poi via con le erbe aromatiche, nel mio caso foglie di salvia essiccate. Mescolo bene per ottenere un composto omogeneo, scelgo la mia tortiera, sporco il fondo con un po' di olio e poi cospargo di pangrattato. Verso il composto di zucca e ricotta, livello bene con un cucchiaio e in superficie completo con altro formaggio grattugiato, ancora un po' di pangrattato che in cottura formerà una bella crosticina e un filo di olio di oliva. Ecco la torta può andare in forno nuovamente, questa volta ventilato a 180 gradi per circa 30 o 40 minuti. Il nostro sformato dovrà apparire ben dorato in superficie, sarà delicato e per questo potete scegliere a piacere di vivacizzarne anche il sapore aggiungendo magari dei salumi come speck o pancetta. A me piace molto mangiarlo insieme ad una crema piccante di peperoncini. Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi aspetto sui nostri siti cibodoc.it e vivomangiando.it con tante altre ricette.